Ciao a tutti, beta di Battlefield 4, ho avuto accesso grazie allo sbagliatissimo acquisto di un Medal of Honor qualche mese fa Onestamente mi incuriosisce un sacco i video, immagino che ne abbiate visti anche voi Sono molto interessanti, molto curiosi, mappa gigantesca, tutto distruttibile Ho in mente ben chiaramente quella distruzione del palazzo che ti casca addosso, gigantesco Vista mozzafiato dall'alto, sembra essere veramente qualcosa di pazzesco Ricordo la beta del 3 che era un po' baggata, un po' tanto baggata Vediamo se con il 4 hanno saputo far di meglio Attualmente il caricamento non è dei più rapidi, è pur sempre una beta insomma Siamo entrati, abbiamo qualcosa finalmente a cui poter sparare, vai Buttati i giocattivi Ci sono un sacco di giocatori 26 e 25, sono 51 Molto interessante Iniziamo a capire come è spesso Dai dai dai, perché qualcosa salta fuori Possiamo scegliere anche i punti dove chiaramente rinascere Possiamo rinascere direttamente su un mezzo Intensate Intensate Appoggianito il muro Hai un simpatico effetto Intensate Sì, sì, sì! Il Customize In effetti riflessi molto interessanti Un botta Ah, c'è il caramato dietro Che figata Forca la puttana Cazzo di figata Ahia, 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 ahia It's a There's a hostile sniper west of your position Kill in action! Quell'elicottero qua non era sicuramente la nostra scelta migliore un bel carramato, bello, 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 bello! Dai, vediamo cosa offre Siamo in torretta in direzione che vediamo la play Ah, non Stupendo 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 Merda Vai Come va a solare? No, non si non sobe Se lo riusciamo a fare Entrando direttamente dentro Ho provato Do 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 Wow Wow Guarda Sì. D'ру garde sotto a l'alfa. Objective Bravo! Objective Delta is now neutralized Be advised! Be advised! I have eyes on a hard-up status in force of your position Bella What a hell of a gun! What a gun! What a gun! What a gun! Where is the net? Objective Delta has been neutralized Con che cazzo c'è là sto deficit qua? Oh Oh Si ok Nulla di eccezionale La cruda dell'edificio va un po' rivista eh Volendo proprio fare il pignone Però ricordiamoci sempre che si tratta di una vetro Che non è cosa da poco Un po' di eccezionale Un po' di eccezionale Un po' di eccezionale Sopra il cararmato nemico Sopra l'interessantissimo cararmato nemico Adesso Vediamo un po' come si fa A cambiare un po' le armi Arma secondaria Secondaria, arma primaria, ingegnere, c'è lanciarazzi, supporto, c'è tutta quella roba lì, fare con i figli di puttana, l'ingegnere, proviamo l'ingegnere. Oh, quasi, paura eh, ti stavo massacrando brutto stronzo, dove andiamo a ricostruirci qua, apriamo con l'elicottero, dai, oh, non sono capace, non sono capace, non sono capace, non sono capace, stupendo, cazzo non sono capace, caro armato, vai, nostro. Merda! Sono lo squad leader, io, andiamo bene, vediamo un po'. Gostardo! Camperone di merda, camperons, oh, camperons. Camperons! Anche. Ami. Come. Grazie a tutti. Vabbè, comunque ragazzi per essere una beta niente male, ok, non è ancora perfezionata, ma il gameplay è molto interessante, molto ben fatto, quello che vedo. Cazzo. Via, andiamo di moto d'acqua. Bella. No, 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 no. Ma che cos'è la guardia di finanza? No, no. No. andiamo a dare sopporto ai nostri campionati cosa ha visto il caramelo dietro e dietro? sicuramente un altro che lo ha fatto preso bastardo forza forza dovrebbe essere che cosa questo? questo dovrebbe essere in un paddle mi sa che il cascato del paddle è rimasto su le telecamere vada non succede ragazzi ho fatto ancora in beta lo devo ricordare intanto perché altrimenti cominciano i soliti insulti della domenica sera ma dove cazzo l'ho sparato? ma qua porca troia che botta va bene ragazzi questo era il primo gameplay della beta di di Battlefield 4 se vi è piaciuto lasciate i commenti se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao